sono sceso dalla cunicella adesso vi faccio vedere il panorama di lupo dei marci eccolo qua salgo qua sopra sopra le mure vede le mure queste ciclopiche forse guardo anche di qua vado vado si guarda che meraviglia adesso passo prima qua sopra e poi passo da quell'altra parte salto di qua di qua adesso però meglio crescendo da questa parte per avere una migliore visione non posso soffermarmi a fare delle riprese per il trotto tempo va bene e salvo qua le immagini deve essere girate con caldo le cose fatte in fretta non vanno bene qua vedi qualcuno si è perso la mascherina ed ecco la mia bici qua c'è un buco so perché c'è un buco qui ci sta pure per te il caloccio andiamo di qua si prosegue hanno fatto una panchina ringraziamo che io ho messo questa panchina ecco la mia montebacca è chiaro che questa la scendamma però il tratto sopra nello scendere nel salire transitabile con la bici l'ho fatto con la bici amud buon pranzaggio